Sì, ha segnato Zecco, la punta, la punta che è conosciuta che è sempre fermo Madonna, ma che squadra di ratti che ha la Juventus, Madonna, che squadra di ratti, Madonna mia E perde con una squadra di celebrolesi Ragazzi, ha perso 2-0 la Juventus con una Roma che sono 11 celebrolesi Madonna mia, ragazzi, perdere con una squadra che sono 11 celebrolesi Che vergogna, che vergogna, ragazzi Qua dal passato è tutto, ciao ragazzi, ci risentiamo domani con Inter Chievo Speriamo che l'Inter vinca, se no andate tutti a fanculo, va Ciao ragazzi, e guardate i video, dovete guardare i video come prima, ciao